questa assistente sociale ha una buona sensazione queste belle bambine avranno una casa oh ciao prendete la bambina che vi piace oh le bambine sono così carine mi piace questa e io prenderò l'altra bambina le bambine hanno una nuova famiglia la piccola luce è apparsa dalla cenere vulcanica di che colore saranno i suoi capelli la scelta è ovvia rossi come il fuoco colorale i capelli sono difficili da pettinare fai gli occhi verdi tesoro dove hai preso quel martello ne abbiamo ricavato un paio di corna d'oro disegna un completo nero con camicetta bianca abbiamo fatto una coda con uno spiedino e un cordino la bambina desiderava un forcone sin da quando era piccola ma per ora può usare una forchetta minuscola ti chiamerò lucy ti cambio oh corna coda chi ho adottato mentre la mamma impreda al panico lucy ha deciso di dettare legge questa casa ha bisogno del caos va meglio chi sei dimmelo ti hanno mandato dal cielo per spiarmi eh non riconosci tua mamma oh sei così carina e per niente spaventosa cosa vuol dire non spaventosa sono terrificante oh è solo stanca è ora di andare a dormire te la farò vedere prepara il pezzo per fare una coperta di feltro la fatta madrina ci ha lasciato un paio di piume aggiungile e anche delle ali di gomma piuma altri glitter la piccola leila è un angelo biondo disegna le sopracciglia la sua biancheria intima bianca è ricoperta di glitter non piangerà con un come questo roxy ha portato la bambina a casa dove papà le stava aspettando cosa sta succedendo sono apparse le ali e un'aureola è un vero angelo wow sa volare mamma e papà sono scioccati non preoccupatevi sono davvero un angelo oh non me l'aspettavo usando i suoi poteri magici lei la ha creato dei cappelli per i suoi genitori mi sta bene grazie che cos'è una pioggia di soldi sì siamo ricchi le buone azioni vengono sempre premiate da dove vengono tutti questi uccellini teniamoli qui lei la sta giocando nella cameretta con i suoi amici piumati tesoro ti ho portato il tuo primo regalo snap il cavallino si è rimpicciolito alle dimensioni di una bambola dipingi l'unicorno di rosa e copri con la pittura perlata colora la criniera la coda e gli zoccoli attacca una sella di gomma piuma un diamante brilla sulla sua testa questo cavallo giocattolo renderà felice ogni bambino wow è un cavallo che carino la bambina è felice ma sembra che al giocattolo manchi qualcosa è vero le ali lei l'ha dato vita al cavallo con la magia degli angeli i suoi poteri continuano a sorprendere i suoi genitori sì sto volando verso le nuvole il cavallo fa fare un giro ai suoi giocattoli helen sta aspettando aspiti la sua famiglia è venuta per incontrare la nuova bambina dov'è la nostra nipotina ma lussi non è dell'umore adatto lasciatemi in pace mi proteggerò zack zack oh che carina ecco un regalo per una piccola principessa fai un girello con dei pezzi decorativi collega alcuni anelli taglia delle cannucce d'argento le ruote saranno fatte di dadi e rondelle aggiungi anche altri dettagli un'auto pericolosa con fucile e borchi appuntite coprila con i glitter neri aggiungi una sfumatura rossa wow escono le fiamme è l'auto perfetta per una bambina diavolo ecco molto meglio toglietevi di mezzo sono il vostro peggiore incubo che bambina coraggiosa da grande diventerà un pilota di auto da corsa ve lo faccio vedere io il pilota di auto da corsa le sorelle stanno passeggiando nel parco voglio andare su un altro dondolo esprimiamo un desiderio scegli un'acconciatura per Leila da adolescente ti piace questa? oh no una cresta mi stai prendendo in giro ecco dei lunghi capelli biondi proprio quello che ci serve sostituisci il vestito con uno bianco di base abbiamo realizzato una gonna e un top con la gomma piuma glitterata il tulle rosa è diventato una gonna scintillante wow le sue ali sono bellissime dipingile di bianco aggiungi una sfumatura rosa inizia dal trucco i brillantini dorati ti stanno bene aggiungi i bottoni fatto che carina ma cos'è? non ci posso credere un angelo dal cielo wow tempismo perfetto ho ascoltato il tuo desiderio ora la mia magia ti aiuterà wush il vecchio dondolo si è trasformato in una nuova giostra wow fantastico grazie angelo prendi un lecca lecca piccola il cane ha inseguito il gatto sull'albero il poveretto non riesce a scendere salta su una nuvola ti aiuto il cane voleva solo fare amicizia volete fare un giro? è bello fare buone azioni dove mi stai portando? rimettimi giù stai ferma per un attimo tesoro devo fare una cosa appena la mamma si distrae Lucy inizia a distruggere il tavolo oh piccola chi è la piccola guerriera della mamma? sono la sovrana del mondo ma certo esatto quasi dimenticavo la torta esprimi un desiderio mangiare caramelle e governare il mondo tesoro guardati allo specchio rimuovi il trucco subito metti una cuffietta le code rosse a punta le stanno davvero bene è una ragazza dagli occhi verdi con sopracciglia da peste si guarda cosa posso fare attenta avremo bisogno di questo cuore per fare le corna scoprile con i glitter rossi questo vestito è troppo banale una gonna di sciffone e una camicia ecco cosa ci serve aggiungi un gilet e una cravatta il suo vestito è pronto e naturalmente una coda da diavolo sandali rosa non esiste meglio in nero la bambina è cresciuta in fretta ma ama ancora le caramelle è così carina anche se è cattiva devo andare signorina devi lavarti la faccia è tutta ricoperta di torta va bene così non rispondere alla mamma dove stai andando? a scuola sei così testarda a dopo dipingi di rosa un cappuccio di plastica aggiungi glitter c'è un supporto decorativo sulla parte superiore aggiungi le ali e una aureola uno stampino in silicone e riempilo con la resina epossidica che bella vista lei l'ha deciso di fare qualcosa di divertente durante questa giornata noiosa i cittadini di Lali Town meritano un piccolo miracolo ad esempio una statua che realizza i desideri posso avere la vostra attenzione per favore? ora i vostri desideri si avvereranno dovete solo chiedere wow fantastico! tutti non vedono l'ora di provarci voglio un nuovo monopattino snap anche un senza tetto esprime un desiderio oh vorrei avere dei vestiti nuovi che ne dici di un cappotto caldo? wow sembra un principe è un miracolo sono felice di aiutare le persone tutti meritano la felicità oh sono finalmente a casa vediamo cosa ha qui del metallo e qui? ti sono mancata? prepara una scatola ecco le portiere i blocchi di polistirolo si sono trasformati in un sedile una rete appare sopra la cabina dipingila di nero attacca le cannucce testurizzate alle ruote fissali alla macchina miracolosa colora la base piramidale con un colore metallizzato la gomma piuma glitterata è diventata un trapano fissala alla base fissa il trapano alla macchina che strana macchina aggiungi il vetro alla cabina fai degli anelli dai tappi metti tutto insieme wow un cuore prepara i fari ora puoi perforare anche al buio lavoriamo sulla macchina il metallo arrugginito è elegante c'è un'antenna sul tetto e c'è una scala nella parte anteriore non appena giri le chiavi inizia a perforare il terreno wow oh sì caro è ora di usare il trapano dove andiamo oggi? andiamo all'avventura wow che bel prato qualcuno si sta rilassando troppo wow perché sei cattiva? sono spaventosa vero? ah ah divertente perché è una forchetta? è la mia arma dovresti usarla per mangiare la torta prendine un po' golosona ma come lo sai? gli angeli sanno tutto possiamo diventare amiche? certo! hai prestato attenzione? quanti uccellini hai visto? e quante fiamme? scrivilo nei commenti e controlleremo le risposte ciao 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 ciao